Bene, con Alberto Parrucchieri abbiamo parlato, Alberto ha menzionato il supporto appunto fornito da Confartigianato Taranto agli aderenti ed eccoci chiamato in causa, lupus in fabula, Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Beh, avete dato un supporto materiale e morale agli aderenti in un periodo di buio davvero. Beh, abbiamo fatto quello che era il nostro dovere, nel momento in cui viene meno per forza di cose, non per volontà dell'impresa ma viene meno il lavoro, quindi vengono meno le entrate, non c'è motivo per un artigiano essere iscritto a un'associazione. Per forza di cose abbiamo dovuto intervenire. Siamo intervenuti imbattendoci però in una cosa più grande di noi e di tutti, cioè contro una situazione che neanche la controparte sapeva di cosa stavamo parlando. Cioè nel momento in cui la politica non ha saputo dare subito le risposte, le ha date il ritardo, le ha date tentennando e quindi parlo del governo nazionale, poi si è capito a un certo punto che si doveva parlare con la regione, poi sono intervenuti i comuni. Non è stato facile. Io immagino quale mal di testa ogni sera doveva avere un imprenditore, ha avuto un imprenditore per andarsi a vedere di volta in volta tutta questa burocrazia. Io dico che, usando un'espressione un po' forte, l'artigiano si è trovato in certi casi come il ciuccio in mezzo ai suoni, nel senso che appunto anche le polemiche stesse tra governo e regioni e quindi alla fine l'operatore si ritrova sbattuto da una parte all'altro come una pallina da ping pong. Oggi è venerdì, stiamo registrando oggi venerdì. Venerdì 15 maggio, lunedì si riparte. Lo sapete che ancora non è tutto ancora chiaro? Non è detto che ci sia ancora un protocollo nazionale emesso che possa andare ancora a mutare eventualmente lo stato della situazione. Immaginate chi doveva ripartire, che livello di programmazione, avendo quei soldini, avendo solo forse per chi ce l'aveva una sola possibilità, se ha sbagliato quell'investimento o si ha preso una cosa anziché prendere un'altra o chi si è blindato dentro con il Plexica se magari poi non lo doveva fare, poi immaginate... Ha investito a vuoto. Ma ha investito soldi che poi non aveva più. Il problema è stato davvero serio. Adesso ripartiamo. Siamo contenti, siamo in queste ore, siamo andando visitando. Sono avuto il piacere di venire da Alberto, sto andando anche da altri operatori, sono tutti fremendo e attrezzandosi. Adesso c'è un problema molto serio però. Il problema serio è che intenzioni hanno le istituzioni, perché da leggere i giornali di questi giorni noi stiamo vedendo il resoconto delle ispezioni e dei verbali. Se questo dovesse essere lo spirito, credo che stiano sbagliando. Cioè di colpire per il gusto o l'interesse di colpire? È sbagliato? Parliamoci chiaro. Le autorità di controllo fanno il loro lavoro. Dipende dall'input che hanno. Se l'input che viene da Roma o viene da altri organismi sopra, è evidente che se questo è lo spirito, quello di andare a sanzionare, possiamo decretare la fine del tessuto imprenditoriale. Dove vai? Vai. In qualsiasi settore. Se invece lo spirito è quello di entrare, vedere, suggerire, prescrivere e dire io tra tutti i giorni torno, fammi trovare tutto a posto, è già diverso. Mi auguro che questo sia lo spirito, altrimenti sarebbe veramente la caccia del gatto al tupo. La gente è già esasperata. Lasciamo stare il discorso del benessere dove tutti più o meno abbiamo i problemi, però ci sono delle categorie che da lunedì quando apriranno non è che avranno la fila davanti alla porta, è che la gente i soldi non ce li ha da spendere. Il parrucchiere è un conto, però i negozi di abbigliamento, le cose, non è che... Avevi problemi già prima, figurati se non li hai adesso. Insomma, la pioggia di fuoco, l'intervento poderoso o cospicuo, perché ora si è cambiata l'aggettivazione, insomma, dobbiamo anche parlare con la realtà nuda e cruda di attività commerciali che già faranno i salti mortali per riaprire. Immaginate poi quanti altri, purtroppo, terranno la saracinesca, la serranda chiusa. È l'occasione unica, forse, di far riavvicinare le istituzioni e le imprese e le imprese e le associazioni, il cittadino alla pubblica amministrazione. Cioè, in questo momento ho bisogno di unità e di intento. È chiaro, nessuno sta dicendo che è tutto a posto, andiamo come eravamo prima. Però, visto che le regole non solo non sono ancora arrivate alla vigilia, ma io immagino che ne arriveranno altre anche dopo, e date anche il tempo e la possibilità, che sia dato il tempo e la possibilità a tutti gli imprenditori di mettersi in regola. Perché noi non abbiamo trovato neanche uno di quelli che non voleva mettersi in regola, ma io vengo adesso da un altro collega di Alberto che mi ha detto che non ha trovato, non riesce a trovare le mascherine. Come si fa? Non è che le può inventare. Giustamente la gente e gli imprenditori vogliono seguire i protocolli, vogliono stare in regola, non riescono. E non riuscire, non può, il fatto che non riesco perché non le trovo, non può essere oggetto di sanzione.